Sono stati licenziati ridotti all'Astrico solo perché protestavano davanti ai cancelli della ditta per la quale lavoravano, insieme alle loro sigle sindacali. Protestavano per ottenere le retribuzioni loro dovute e mai pervenute. I quattro autotrasportatori della ditta Vedis, dopo oltre un anno dalla data del loro licenziamento, sono stati reintegrati. La sentenza parla chiaro che c'è il rindrico, quindi non penso che possa fare altrimenti. L'unica cosa che potrebbe fare, come ha detto qua Alessandro Grasso, è che ci lascia a casa e ci manda lo stipendio a casa. Questa è l'unica possibilità che potrebbe fare lui. Quanto tempo siete stati senza lavoro? Lui ci ha licenziato il 21 dicembre, fatto apposta perché ci ha licenziato sotto Natale, per dare il mal Natale a tutta la famiglia, fino ad oggi, fino alla sentenza. Io pago 1000 euro di mutuo a mese, quindi il signore vecchio lo sapeva questo, e quindi mi volevo distruggere economicamente sopra questo qua. Protestavano per i loro diritti, ma sono stati accusati di sequestro di persona dal titolare della ditta per la quale lavoravano. Contro di loro sono stati avviati due procedimenti penali, subito archiviati per richiesta dal giudice, per l'infondatezza della notizia di reato, visto che le ricostruzioni fornite dalla ditta sono state smentite dai parenti stessi della proprietà. Procedimenti impugnati dall'azienda, ma subito rigettati. Parliamo di giudici che si occupano di questioni molto delicate, che riguardano i diritti dei lavoratori. ha emesso un'ordinanza di piena applicazione dell'articolo 18, di piena reintegra, facendo un'operazione di grande correttezza, perché ha riconosciuto la totale inesistenza dei fatti posti a base del provvedimento disciplinare, e per questo non solo ha reintegrato i quattro lavoratori, ma ha condannato la società alla corrispondizione di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegra. Effettiva reintegra che ad oggi non si è verificata, nonostante l'emissione dell'ordinanza registri l'1 marzo come data, quindi a distanza di oltre dieci giorni non si ha notizia da parte della società. Anche il Tribunale del Lavoro ha tutelato i lavoratori e l'attività sindacale dei rappresentanti intervenuti. È una vittoria importante soprattutto per i lavoratori e per le loro famiglie, e per il fatto che comunque si è data certezza a questi lavoratori che la giustizia esiste e che quindi devono tenere la schiena dritta di fronte a certe versazioni. Grazie a tutti.